Fermate un po', ando vai, ando corri. Non c'ho soldi, che volete? Te devo parlare del lavoro. C'ho vogliate un po' di teatro. Qualcosa d'avanguardia, sperimentale. Mi sono deciso a buttarci un po' di soldi. Il cast è già tutto pronto, manchi solo due. Questa è una rivisitazione in chiave moderna di Romeo e Giulietta. Noi che facciamo, fondiamo il classico moderno. Sì, ma classico con brio. E che si tratta di far favore un attore salvo e protagonista? Tu sei Romeo, un attore gay. Io non sono gay. Cioè, a te non sei chi è questa. Ecco a voi, Annalita Gagibaldi. Adà la botta a mo'. Senti, io avrei voluto scegliere gli attori, però le prove qua dentro c'è una puzza di muffa, non si legge. Mi chiamo Pietro, ho fatto il grande fratello. So quello che ha nagasciato via perché ha colcato il botte di imbecila. La vaiassa napoletana si rifugia in un convento e diventa un po' il passatempo dei monaci che se le inchiappettano selvaggiamente un po' a turno. Ah, ah, Romeo, Romeo. Ma che sei tu Romeo? Offredda, disodorante, ignobile, sottomissione. Così, tanto per capire voi che ruolo state cercando esattamente. La mignotta, te basta? Loris mi aveva detto che era pure una buona parte. Tu sei disposta a invecchiarti? A impiatredare un troglione pazzesco? Io sono un'attrice seria, sa. Io tolgo tutto, se devo levare tutto, levo tutto. Perché qui le marchette vanno fatte bene fino in fondo. Si. Si, 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 si. Grazie.